Buona giornata a tutti, sono Angela Rossi, presidente di ArteMind. Ho aderito con molto piacere a questa iniziativa che mi è stata proposta dalla dottoressa Maria Pala Lupo. Esamineremo in questo percorso i simboli, o meglio, i trofei della processione del Venerdì Santo a Chieti, che sono stati realizzati dal teatino Raffaella del Ponte. Torniamo ai simboli della processione di Chieti. Dopo l'angelo alato arrivano le lance, che appartengono ai soldati romani, con una daga, due torce, una lanterna e il sacchetto delle trenta monete d'argento, compenso di Giuda, il ricordo dell'arresto di Gesù nell'orto del Giossemani, e un cartello con la scritta SPQR. SPQR è un acronimo del latino Senatus Populusque Quiritium Romanus, cioè il Senato e il Popolo Romano dei Quiriti. Il Quiriti era infatti il cittadino dell'antica Roma, che godeva dei pieni diritti civili, politici e anche militari. Le lance sono accompagnate dalla confraternita dei crociferi o delle crocelle. Segue la colonna. E la colonna a cui fu legato Gesù, su di essi sono posti un gallo, ricordo del rinnegamento di Pietro. La mano simboleggia lo schiaffo ricevuto da Gesù e gli strumenti della fragellazione. Il gallo è seguito dalla confraternita di Santa Barbara. Il gallo è colui che vigila il pollaio. I cristiani utilizzano questo simbolo per l'aspetto particolare di questo animale, che annuncia il nuovo giorno con il suo caratteristico verso. È l'immagine quindi dell'attesa del nuovo giorno in cui Cristo ritornerà. E poi sta a ricordare l'episodio del rinnegamento di San Pietro. Partiamo dal primo simbolo, l'angelo alato, che ha in mano il calice amaro della passione, che serve alla raccolta del sangue di Gesù ormai organizzante. È accompagnato dai confratelli di San Gaetano di Tiene. L'angelo ricorda anche Gesù nel Gessemani, che sudava sangue, e prefigura la resurrezione. È infatti l'angelo che dice alle piedonne, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ecco, in questa immagine veniamo Gesù. Che è l'angelo che dice alle piedonne, perché cercate tra i morti colui che vive? Ma più volte nella storia dell'arte si associa la figura dell'angelo ai simboli della passione. Mi riferisco agli angeli posti lungo Ponte Sant'Angelo a Roma. L'entrata al ponte è segnata dalla presenza dei santi Pietro e Paolo, che, protettori della città, sembrano procedere il cammino, l'iter doloroso compiuto dal pellegrino che si dirige al centro della cristianità, ricordando le pene di Cristo durante l'andata al Calvario. Il pellegrino è poi accompagnato dagli angeli, che partecipano coralmente ad un'azione teatrale di grande suggestione, come degli aerei nel cielo di Roma, proiettati contro la cupola di San Pietro, ad evidenziarne il fine e la sacralità e a indicarne le stazioni dolorose che Cristo compì prima della morte. Seguiamo questa via indicata dagli angeli. Questo progetto è stato realizzato e proposto dal Bernini. Papa Clemente IX fece collocare dieci statue raffiguranti gli angeli della passione che portano gli oggetti simbolo della passione di Cristo. Le statue sono state scolpite dagli allievi del Bernini. Il primo episodio che viene ricordato è quello di Gesù alla colonna. Questo viene rappresentato dall'angelo con la colonna di Antonio Raggi. Il secondo momento del cammino contempla Cristo, che dopo essere stato legato alla colonna, viene flagellato e abbiamo appunto l'angelo con i flagelli. Secondo il racconto evangelico, alla flagellazione segue l'incolonazione di Gesù con una corona di spine. Ed ecco che vediamo l'angelo con la corona di spine. Segue l'angelo con la veronica. l'angelo con la veste e i dadi. L'angelo con i chiodi. L'angelo con la croce. L'angelo con il titolo della croce. L'angelo con la spugna bagnata d'aceto. L'ultima stazione contempla la trafittura del costato di Cristo con la lancia da parte di un soldato per assicurarsi della sua morte. Il sasso. Allude al trono beffa sul quale venne fatto sedere Gesù. Ci sono la sua tunica e i dadi che servirono ai soldati per giocarsela, lo scettro di canna, la corona di spine con la quale venne deriso Cristo e un catino e una brocca, il ricordo del gesto compito da Pilano che disse «Io me ne lavo le mani». Il catino e la brocca d'argento vengono affidati ogni anno dalla famiglia Obletter all'arci confraternita. Furono utilizzati per il battesimo di padre Gabriele Obletter, frate Francescano morto nel 1964, ora sepolto nella chiesa del Sacro Cuore di Chieti. Il sasso è accompagnato dalla confraternita della Madonna del Fretto. Nella chiesa di Santa Prasseli a Roma, in una minuscola cappella, si vende una colonna di granito alta circa 63 centimetri. La tradizione vuole che si tratti della colonna a cui Gesù fu legato per subire la flagellazione, portata a Roma da Gerusalemme nel 1223 dal cardinale Giovanni Colonna. La sacra tunica è una reliqua conservata nel Duomo di Treviri, consistente in un pezzo di stoffa che si ritiene parte della tunica indossata da Gesù prima della crocifissione e richiamata nel Vangelo di San Giovanni. Secondo la tradizione, la tunica venne in possesso di Sant'Elena che la diede a Sant'Agrizio Vescovo di Treviri affinché la portasse in quella città. Elena è legata nella tradizione cristiana al suo presunto ritrovamento non solo della tunica, ma anche della vera croce, il patibolo su cui morì Gesù in occasione del suo viaggio in Palestina. Oltre la croce infatti Elena avrebbe trovato la croce di uno dei due ladroni, la spugna imbevuta d'aceto, parte della corona di spine, un chiodo della croce nonché il titulus crucis. Il volto santo segue il volto santo, inghirlantato, copiato con magistrale precisione sopra un trasparente velo dal prodigioso originale che si conserva dai padri cappuccini di Manoppello ed è accompagnato dalla confraternita di Santa Maria delle Grazie. Il velo è una di quelle immagini proprie della tradizione popolare. La prima menzione la troviamo negli Acta Pilati, testo apocrofo, poi ripreso una leggenda aurea di Jacopo da Varrazze, dove si narra dell'incontro della Pia Donna con Cristo lungo la Via del Calvario. Come atto di pietà la Veronica si sarebbe avvicinata a Gesù per asciogargli il volto dal sudore e dal sangue e come ricompensa di questo gesto le sarebbe rimasto impresso sulla stoffa il volto del Signore. Nelle successive rielaborazioni il velo della Veronica, sottratto e donato secondo le tradizioni, venne portato a Roma da Tiberio, gravemente malato. L'imperatore, dopo aver ammirato il volto di Gesù, guarì. Le immagini del volto di Cristo di origine miracolosa sono dette achiropite, dal greco achiropoieta. è una parola greca che significa appunto icona, non fatta da mano d'uomo. Il termine intende stabilire una netta distinzione tra l'icona e gli idoli di cui l'Antico Testamento evidenzia sistematicamente che sono opera delle mani dell'uomo. Si trattò di immagini come la sindone, il volto da santo di Manoppello, imprese su tessuti e perciò chiamate spesso mandilio, termine derivato dal greco Tomangulion, che a sua volta viene dall'arabo mandil o mendil, asciugatorio, sudario. Si procede con la scala, a cui sono appese le tenaglie, il martello e i chiudi della crocifissione, ma anche la canna con una spugna bagnata di aceto e la lancia di Cassio Longino, militare romano o poi convertitosi e divenuto santo, che ferì pietosamente Gesù al costato per accelerarne la morte. Il sangue di Gesù scaturito dalla ferita al costato e la spugna usata per dare da bere l'aceto, secondo la tradizione vennero raccolti dal legionario Longino, che gli aveva sferrato il colpo di lancia. Convertitosi e venerato come martire della Chiesa Ortodossa e come santo della Chiesa Cattolica, avrebbe portato spugne e ampolla a Mantova, ora custodite nella cripta della Basilica di Sant'Andrea. La scala è accompagnata dalla confraternita di Santa Maria Calvona e infine si staglia possente la croce, rude e pericolose, santissima, a cui piedi sono posti il serpente del peccato originale e il cranio del primo peccatore Adamo, ossia le motivazioni del sacrificio di Gesù Cristo. La croce è sovrastata da un cartello con le iscrizioni in ebraico e latino e in greco. All'origine pare pesasse 365 chili, nel tempo fu alleggerita per consentire ai portatori in maggiore manualità e accompagnata dalla confraternita del Santissimo Rosario e di San Domenico. È il simbolo la croce cristiana più diffuso, riconosciuto in tutto il mondo. È una rappresentazione stilizzata dello strumento usato dai romani per la tortura e l'esecuzione capitale tramite crocifissione, il supplizio che secondo i Vangeli e la tradizione cristiana è stato inflitto a Gesù Cristo. Ma ha un significato universale rappresenta l'unione del cielo con la terra della dimensione orizzontale con quella verticale. Con il cristianesimo assume significati nuovi e complessi, il ricordo della passione morte e resurrezione di Gesù ma è anche un monito e un invito evangelico a imitare Gesù in tutto e per tutto accettando pazientemente anche la sofferenza. La croce per i cristiani è la memoria del sacrificio di Gesù e sintetizza in modo significativo il suo messaggio l'amore di Dio il braccio verticale che indica l'alto e l'amore del prossimo il braccio orizzontale un abbraccio verso tutti gli uomini. Rappresenta quindi il crocifisso il Cristo il verbo la seconda persona della Trinità e secondo la leggenda il legno della croce proviene dall'albero sorto sulla tomba di Adamo. La croce latina inizia a comparire in alcune chiese attorno alla metà del terzo secolo ma sarà solo sotto Costantino primo che avrà la sua maggiore diffusione e impiego come simbolo cristiano. La scritta Irri il titolo Scrucis è un acronimo ottenuto dalla frase latina Iesus Nazarenus Rex Judeorum che significa Gesù di Nazareth re dei giudei. Secondo i Vangeli la scritta fu voluta da Pilato e posta sopra la croce di Gesù Cristo crocifisso. Nella chiesa di Santa Croce di Gerusalemme a Roma è conservata la reliquia di questa iscrizione assieme ad altri frammenti della Santa Croce. La tavoletta rega alcune parti dell'escrizione in latino e greco scritte al contrario come si usava in Gerusalemme e fu portata a Roma certamente nel IV secolo dalla madre di Costantino. Il fulco della processione sono il Cristo morto e l'addolorata seguita da musicisti e dai coristi che intorano lo stuggente miseria di Sanario Salicchi. Auguro a tutti una buona Pasqua di resurrezione e che la luce del Cristo risorto disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Grazie.